Comunque, 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 torniamo sull'attualità perché mancano 875 giorni all'inizio delle Olimpiadi, la grande Olimpiadi del 2026, l'Olimpiadi Invernale di Milano e Cortina. Il buon Masieri in questi giorni ha cercato di parlare con il Presidente della Regione Nombardia proprio per fare un'intervista sulle Olimpiadi. Quindi sapete che in quest'ora di solito suggerono cose strane in questo programma e ovviamente anche oggi non poteva essere di meno perché il buon Lorenzo Masieri ha chiamato l'ufficio di presidenza della Regione Nombardia, almeno così sembrerebbe, e non è proprio andata come ci si aspettava. Ecco, so già, piccolo spoiler, ma vi faccio ascoltare appunto l'intervista che abbiamo registrato con l'ufficio di presidenza, o così tale, ma chissà, non lo so se è proprio quello lì, non lo so, non lo so. Vabbè, sentiamo un po', vediamo un po' cosa è successo con Lorenzo Masieri e l'ufficio del Presidente Fontana. Vabbè, sentiamo un po' cosa è successo con l'ufficio di presidenza della Regione Nombardia. Pronto? Pronto? Ufficio di presidenza della Regione Nombardia, parla a Mimbo Battuccio, segretario personale del Presidente Fontana, mi dica... Buongiorno, buongiorno, Battuccio, sono Masieri, giornalista di Good Morning Milano, Lorenzo Masieri. Mi, ha chiamato giornalaio, mi, Masieri, mica, ma chi lo chiamò, Masieri? No, Masieri, Masieri, non Masieri, comunque chiamo da Good Morning Milano. Ah, Good Morning Milano anche a lei, Masieri. Masieri, cosa posso fare per me, mi dica? Comunque, sempre Masieri, Masieri è il cantante. Volevamo parlare con il Presidente Fontana della questione Olimpiadi 2026. Eee, il Presidente non può parlare in questo momento, è occupato. Come occupato? Non può proprio? Il Presidente è impegnato, sta simulando. Scusi, in che senso sta simulando? Cosa sta facendo? Simulando. No, le Olimpiadi, alta tecnologia giapponese. Tiene tutto, eh, Masini, tiene tutto. Un visore tra gli occhi, un passuccio da mano sopra simulare, tutto. Sta simulando le Olimpiadi. Ah, le Olimpiadi sta simulando. Presidente, il Presidente è bravissimo. Sta simulando perfettamente, Presidente. Eh, si ricordi che le bandierine grandi sono un gigante? E chi le picciritte sono uno stallo speciale, eh, bravo, bravo, Presidente. Mi scusi, Balduccio, mi scusi, Balduccio. Ma cosa significa che sta simulando? Perché, da quello che mi sta dicendo, secondo me sta giocando a una console, eh, a un gioco delle Olimpiadi al massimo. Altro che simulando. Ma che ciò che c'è, ma che ciò che c'è, ma che significa? Ma che ciò che c'è? Il Presidente sta simulando. Eh, sta simulando. Sta preparando. Alfa tecnologia, eh, Masini, la conosce? La realtà accelerata, aumentata, simulata, che dico, eh, chiacciata, cosa vogliamo chiamarla, visto il tema, eh, che dice? Balduccio, Balduccio, guardi, il Presidente sta giocando, ne sono sicuro, sicuro. Presidente, Presidente, ci ricordi che chi l'ha aperto è un slittino e chi l'ha chiuso è un bob, eh, bravo. Vabbè, quindi noi comunque non possiamo parlare con il Presidente, non c'è niente da fare. Eee, Masini, ma direi che è levato, eh. Il Presidente è occupato, sta simulando, Masini. Eh, come dicevo pochi innanzi, è occupato. Allora, Balduccio, chiameremo magari anche domani, eh. Lei comunque è in turno? La troviamo in turno? C'è, Masini, sempre qui per sentirla, c'è anche gente. Sarebbe Masieri, però, vabbè, ci sentiremo domani.